Musica Ben ritrovati con il Tg Veneziano dopo l'incontro avvenuto ieri a Palazzo Chigi tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni questa mattina nuovo incontro a Venezia in visita alla bioraffineria Eni di Porto Marghera insieme anche alla presidente di Eni Emma Marcegaglia e all'amministratore delegato Claudio Descalzi in merito al risultato del referendum nella nostra regione sull'autonomia Gentiloni ha detto che il governo è pronto a discuterne nel merito è utile per il paese, ha spiegato, vedremo quali funzioni e quali condizioni ovviamente nei limiti fissati dalla legge e dalla Costituzione sarà una discussione complessa, ha continuato ancora a Gentiloni, ma il governo avrà la massima apertura e il primo ministro visitando l'impianto, il primo di bioraffineria nel mondo, ha sottolineato che il governo guarda alla ripresa del lavoro lo sviluppo che abbiamo davanti non distrugge, ha continuato nel suo discorso Gentiloni, ma crea posti di lavoro grazie all'innovazione tecnologica transitare da un lavoro della vecchia fase dell'industria ad uno della nuova fase è possibile che si faccia qui a Porto Marghera è ancora più significativo perché è simbolo e luogo importante della città metropolitana di Venezia e Gentiloni non ha poi dimenticato di ricordare l'importanza dell'insediamento industriale di Porto Marghera uno dei più importanti per dimensioni e storia, una raffineria verde, l'esempio più avanzato a livello mondiale uno sguardo quindi anche all'ambiente con l'Italia che deve riconfermare, ha sempre detto nel suo discorso Gentiloni, i propri impegni e poi non sono mancati però neppure gli attivisti no grandi navi, riuniti all'ingresso del petrochimico per protestare contro il passaggio delle navi da crociera nel bacino al presidente Gentiloni hanno consegnato un dossier sulla croceristica per gli attivisti le grandi navi devono stare fuori dalla laguna così come un secco no anche ad un porto croceristico a Marghera con lo stop di scavi che influiscono negativamente sull'ambiente e riprendiamo il tema dell'autonomia del Veneto con i risultati delle affluenze nel comune di Venezia la maggiore affluenza al voto è stata nella municipalità di Chirignago-Zellarino con il 53,55% seguita da Favaro-Veneto con il 53,43% Marghera con il 46,84% Mestre-Carpenedo con il 45,53% e infine Venezia-Murano-Burano con il 35,99% un centro storico che quindi ha risposto freddamente all'appello di Palazzo Balbi molto probabilmente invece la periferia ha maggiormente sentito il bisogno di farsi ascoltare dal governo centrale i sì sono stati 90.775, i no invece 2.472, le schede bianche 169 e quelle nulle 235 nell'area metropolitana il comune di Vigo Novo ha raggiunto il 69,1% dei votanti e si pone al primo posto in assoluto i sì sono stati 5.194, i no invece 85 e alle urne malgrado il brutto tempo di domenica ma la pioggia non è riuscita però a fermare il blocco parziale del traffico misura questa è indispensabile per contrastare lo smog di questo ultimo periodo oggi primo giorno di blocco fino a giovedì ferme 20.000 auto, il livello di allerta non è rosso ma arancione il blocco si avrà dalle ore 8.30 alle 18.30 per i privati mentre per i commercianti il fermo sarà fino alle 12.30 per i veicoli a benzina potranno circolare solo gli euro 2, 3, 4, 5 e 6 i diesel invece solo gli euro 5 e 6 i veicoli diesel commerciale euro 4, 5 e 6 euro 1 e 2 invece per i ciclomotori e i motocicli a due tempi anche i termosifoni dovranno rimanere spenti dalle ore 16 fino alle 18 inoltre si ricorda che ha evitato bruciare alcunché all'aperto e adesso invece questione comune di Venezia dipendenti pubblici e contratto di lavoro ebbene i sindacati e il comune hanno predisposto sette incontri per adivenire alla firma del contratto di lavoro sottoscritto da tutti e non solo dalla CISL come è successo poco tempo dietro con tanto di causa davanti al giudice del lavoro sette incontri in agenda ogni lunedì pomeriggio fino all'11 di dicembre i contenuti saranno oggetto di discussione del prossimo lunedì in ballo comunque la mobilità del personale, i permessi e le visite mediche se poi il percorso, hanno detto i sindacati, dovesse giungere ad un accordo il testo verrà sottoposto a referendum tra i lavoratori chiesta la condanna per il sindacalista della CISL Andrea Gaggetta 5 mesi di reclusione e una multa questa è la richiesta della procura di Venezia per truffa aggravata in relazione a presunte creste sui rimborsi chilometrici in trasferte effettuate per conto del sindacato e poste a carico della CISL il sostituto procuratore Giorgio Gava ha ricostruito ieri pomeriggio gli episodi contestati a Gaggetta sostenendo che oltre ai rimborsi in debiti per viaggi non documentati avrebbe il sindacalista anche lucrato su rimborsi relativi all'usura dell'auto nonostante non utilizzasse quella privata ma un mezzo appunto messo a disposizione proprio del sindacato la difesa ha invece richiesto la piena soluzione il 2 novembre è prevista la sentenza e questa mattina tragico incidente stradale a Scaltenigo in via Caltana intorno alle 10.30 un 72enne residente a Balò è stato travolto in pieno sulle strisce pedonali perdendo la vita la vittima a piedi è stata travolta da un Opel Calibra condotta da un 62enne residente a Santa Maria di Sala che stava transitando in direzione del centro sul posto il Suem che non ha potuto che accertarne il decesso la careggiata è stata riaperta al traffico dopo le 12.30 a Lido di Venezia nuovo blitz, l'ex ospedale nuova incorsione da parte delle forze dell'ordine che hanno setacciato i padiglioni il compendio immobiliare che è di proprietà di cassa, depositi e prestiti e ancora rifugio abusivo per il senza fissa dimora l'operazione di ieri ha portato al sequestro di circa 160 grammi di marijuana oltre anche ad un bilancino inoltre un cittadino senegalese che bivaccava è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici l'uomo però è risultato essere regolare in Italia e quindi in possesso del permesso di soggiorno si tratta più che altro di un servizio di controllo un servizio mirato alla prevenzione e un altro skimmer sistemato in uno sportello Bancomat del centro storico veneziano ha fatto scattare l'appello della questura alla cittadinanza con raccomandazione a prestare attenzione e massima cautela ad ogni dettaglio che possa destare sospetto lo skimmer inserito nelle fessure delle carte di credito è capace di leggere i dati della banda magnetica mentre l'installazione di una telecamera vicino alla luce del Bancomat serve ai malviventi per leggere i codici PIN digitati da chi va a prelevare il denaro contante l'ultimo skimmer è stato appunto trovato in un Bancomat nell'area marciana sabato scorso al parco San Giuliano di Mestre in 6.000 pronti alla partenza per la consueta family run i runner, studenti e famiglie intere si sono dati appuntamento al parco alle 10 di sabato mattina e si sono scatenati poi nei tre sentieri del parco con un percorso di circa 4 km un serpetone lungo da impiegare oltre 10 minuti per passare sotto l'arco di partenza presenti anche Giussi Versace e Alex Zanardi e dalla family run di sabato aperitivo della ben più faticosa maratona passiamo appunto alla Venice Marathon di domenica trionfo italiano vittoria in solitaria del giovane Job Fanel bassanese di origini eritree ha tagliato il traguardo in riva a 7 martiri 2 ore 12 minuti e 16 secondi per lui secondo l'eritree Mohammed Musa e terzo in volata il marocchino Tariq Bamaruf tra le donne successo per l'etiope Utura seguita dalla kenyota Cherono Yepting e dalla etiope Yanalem clamoroso lo sbaglio di percorso del gruppetto di 6 africani battistrada poco prima di entrare a Mestre hanno sbagliato tracciato e sono dovuti tornare indietro riporcorrendo a ritroso alcune centinaia di metri per la pagina sportiva bene anche a Pordenone il pareggio del Mestre 2 a 2 un Mestre senza paura contro la Capolista assegno sotto via Eppolitti prossimo match contro il Padova e questa sera ore 20 e 30 invece la Serie B fuori casa il Venezia incontra il Cittadella Questa era la nostra ultima pagina di informazione vi ringrazio per l'attenzione vi lascio con il direttore Massimo Righetto e vi do appuntamento alla nostra prossima edizione grazie Grazie